A tutto il campo del mondo, per farlo nella logica di Pechino e del revanchismo, e insomma le condizioni internazionali... ... tra Cina e Russia... Esatto, intanto poi il GVP fa cose, ha scolto anche a Pechino a Di Maso, la notizia ieri era in prima pagina, quindi il New York Times ha visto questa missione di a Di Maso e a Pechino come tentativo di espandere l'inquenza della Cina nel Medio Oriente e di portare appunto il paese, il suo paese di vaccina con l'autor natura al istante dell'inquenza della Cina Grazie! 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 Grazie!